E oggi, mentre stavo in chiamata con dei miei amici miei, hanno scoperto questa cosa di Airbnb Guarda, su Airbnb, se cerchi tipo... Casualmente ti fa vedere tutti gli appartamenti o... Airbnb appunto del mondo E' interessante Mi fa quasi venire voglia di andare... Di andare in giro Tipo... Questo dov'è? A Parigi Ragazzi, sono assurde Sono tutti incredibili Guarda Non capisco la forma, tipo... Però Ok Vabbè, è una cosa di legno triangolare con la piscina fuori Ma questo è pure il meno Anzi, questo è... Quanto costa? 216 a notte Vabbè Vabbè, non è male Questo cos'è? Questo pure non me ne frega un cazzo È tipo qua 94 euro a notte Però sta in... Cabane Dov'è? Dove sta? Cos'è cabane? È un posto? Ah, sta in Francia sempre Ma che cazzo è? Questo è bello Questo è bello Ma scopà Però come dormi? Ah, ok Bello Vabbè, c'è un letto Ovviamente la cucina mi sa che non c'è C'è un arrangiamento Te la portano Che cazzo ti mangi là? Le ghiande? Ah È a fianco a un ristorante Mangi là quindi Questo è stiloso Questo è stiloso Questo è un boh Non manco troppo Questo è inutile al cazzo Ah, posso dire che queste cose qua sono una poserata del cazzo Queste stronzate con i vetri Tipo nella natura Le odio Le odio Le odio per sempre Oh cazzo Ma che cazzo è? Ma che cazzo me ne frega a me? Ma poi il metticazzo Voglio mettere il cazzo in mano? Seriamente mi vedono tutti Cioè, non c'è nessuno Però me Sono sicuro al 100% Che tipo In sto posto qua Che è Dov'è? Sempre in Francia Sempre in Francia No, in Belgio Cioè In Palese al 100% Ci stanno Quelli del posto vicino Che stanno Che qua ci vanno le coppiette E dietro uno Due Tre Ci stanno almeno cinque persone Che te stanno a guardare Sto sicuro al 100% Regà Ho fatto il buio Grazie Anche questo mese Grazie per te Sì Passo Grazie mille del pè Cioè Come mi piace i mani Questo boh Un po' strano Questo che cazzo è? Come Come ci arrivi? Ah ok Ci stanno delle scale Ci stanno delle scale Ci stanno delle scale Eh Devi vivi dentro Sì vabbè Devi fare sta giornata Dentro una roccia Che non è male Possiamo Acidua Grazie mille per il pre Bello questo Mi piace Bella 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 la doccia così Questo mi piace Questo props Questo no Questo che cazzo è? Boh Un quadrato Questo vorrei capire Voglio vedere un attimo Questa non ha senso È un barbecue Ma è piccolissimo Eccoci Aspetta Dove si trova? Questo è tipo americano Sto sicuro al 100% E invece? No Tutti vicini in Austria Chi è? Mann Manni Grazie di 11 mesi Quasi un anno Segui Grazie di 3 mesi Ma è piccolo Sì come cazzo è? Che cazzo è? Un barbecue gigante Ma com'è contenta lei però De sta c'è dentro? Sarà proprietaria? Tipo Penso Presumo Radio I piedini Ma che cazzo ma sta per strada? Ma sta per strada? C'è stata fermata l'autobus davanti Ma che cazzo vuol dire? Ma perché? Che è sta foto poi? Ah ma è sposta Ci può spostare Ok Non capisco ancora il senso Dove la metto? Non lo vuoi te? Continuo a non capire il senso di questa cosa Ma perché uno dovrebbe averci il desiderio Di fare una cosa del genere? Vabbè magari c'è sta chi lo fa Carina questa Ma non è vero Ma poi guarda chi cazzo è lui Vabbè Se volete dormire su una valigia Per Per 67 euro a notte Che non so male Però vabbè Se ve va Regà Sapete dove trovarli Bello questo cazzo Questo pure è bellissimo Però sono quadrati Capito? Beh Ciao Simo come stai? Ho fatto una robina Guardo grazie con te Manda Manda Sentiamoci minore di tre Questa sta In Corea What the fuck Ma che è? Ma sai di sordi che ci vanno per fare una notte del genere? Ha una chitarra enorme Vabbè Vabbè stanzi sono normale Ma mi pare Che io c'ho tutti sti sordi e penso C'è un orso Tutti sti sordi e penso Mo faccio una bella chitarra gigante E ci faccio dormire la gente dentro Per 53 euro Not bad Not bad Questa pure è carina Questa è carina Questa è incredibile Ecco qua Oh Ecco qua Il proprietario sicuramente è grosso Con la barba Con le macchie d'olio Sulla canottiera E invita Tutte le amiche della figlia A casa 100% Sì Guarda qua La casa delle baboline No non sono io Non sono io Oh sto cazzo di sushi si smonta Da che uia Terrore Questa è la crew Ah ne ho visto uno assurdo Su discord Vediamo se lo azzecco Vediamo se lo azzecco Bello questo Aspetta aspetta Eccolo qua Questa cosa È una cosa Incredibile Nel deserto del Nevada Credo Roswell Sì Dovrebbe essere questo no Nel deserto del Nevada Giusto Roswell Nel Nevada No Come faccio a capirlo Vabbè Questa cosa Regà Data come stai Non sono data Non sono data Ma non è il suo rumore Ma che cazzo è Sono pieno De bassi In casa Ma chi cazzo è Che sta a mettere la musica Bello Questo qua È fatto così È praticamente Un'ex stazione Missilistica Dove ci facevano Partire i razzi Tipo O roba così Non è in Nevada Vabbè ho sbagliato E dentro Ci hanno fatto Cioè da fuori Tu vedi sta cosa E ci hanno fatto Delle stanze Entri così Un po' creepy Tra l'altro Zero aria All'interno La porta È un bunker Vai giù Un po' ansioso Tutte cose americane Un po' ansioso Però interessante Questa è come era prima Penso O come adesso No non penso Vabbè come era prima Forse Bello Vabbè basta Mi sono rotto il cazzo E noi siamo Tutti C'è una sub Perchè tanto è gratis Esatto A 17.000 Sub Faccio la reazione Del collegio Ok Siamo i crewmates Ci sono tuta La quals Ci sono tutta Grazie a tutti.